Eccomi qua, ringraziamo Francesco perché ci ha seguito per tutto il Paglio con una miriade di filmati, foto, pubblicati sul suo 6tu.it Andate tutti a vederli, grazie Francesco! Grazie, grazie, sei un amico, sei un amico Ambrogio, grazie mille, ciao, chiudiamo, ciao, ciao! Sono buonissimi Ambrogio, cosa sono? Sono dei biscottini cioccolato con coperti di coppia, mamma mia che roba, super, grazie, 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 ragazzi mi dicono che oggi piove purtroppo, una volta c'era la danza della pioggia, ma la danza del sole la conoscete? Bisognerebbe farla oggi, eh? Ecco le signore Ma io vedo che a lavorare sono sempre le stesse, eh? Eccoli, buongiorno, qui c'è la cucina, la gentile signora e qui le signorine con il giovanotto, le signorine con il giovanotto, prima le signorine, eh il giovanotto si vergogna, va via. Ah, il dolce, bravi, bravi Va bene Bene Ciao, ciao, ciao 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 Grazie a tutti. Wow! Stop, please! Oh! 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 Bravi! Dai, nuova partita! Dai punti disegnati o no? Sì! Bravi! Pallina! Pallina! Angolo! E vai! Uno pari! Due a uno per i rossi! Tre a uno per i rossi! Quattro a uno! Ehi! I rossi sono forti qua, eh! Quella! Cinque a uno! Cinque a due! Fate la rimonta! No! 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 D Pvatshot! Ah, honey! Gala! Pvat ora! Pvat quindi! ¿P其实! ola aiaiai 6 a 2 aiaiai 7 ragazzi i rossi stanno scappando 7 a 2 7 rosso 3 blu vai 7 a 4 7 a rossi 4 a blu 8 a 4 8 rossi 4 blu 9 a rosso e 4 a blu 10 a 4 vincono i rossi ah vai a 11 andate a 11 adesso le 11 ci siete 11 rossi e 4 blu cosa fate? la rivincita? dai vai cambiate campo cambiate posto 1 a 0 per i rossi 2 a 0 per i rossi 3 a 0 per i rossi aiai e mi sa che il portiere è lì 4 a 0 4 a 0 per i rossi 4 a 0 per i rossi è un po' qui? va? 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 4 a 1 per i rossi 4 a 1 per i rossi 4 a 1 per i rossi 5 a 1 per i rossi 6 i rossi 6 i rossi e 2 i blu 6 i rossi e 3 i blu 7 rossi e 3 i blu 7 rossi e 4 i blu 7 i rossi e 3 i rossi e 3 i rossi e 3 i rossi 7 rossi, 5 blu, 8 rossi, 5 blu. Vai! 8 rossi, 6 blu. 8 rossi, 6 blu. 8 rossi, 6 blu. 8 rossi, 7 blu. 8 rossi, 6 blu. 9 rossi, 9 rossi, 8 blu. 9 pari! 8 rossi, 8 rossi, 8 rossi. 8 rossi, 8 rossi, 8 rossi, 8 air seized. 8 rossi, 8 rossi, 8 rossi. 8 rossi, 9 rossi, 8 rossi, 9 rossi. Il tempo è sempre brutto. Il tempo è sempre brutto.